Il Premier Conte, rientrato a Roma dalla visita in Libano, assicura il rapporto tra Italia e Francia è così antico che non può essere messo in discussione. Di Maio, aggiunge Conte, ha agito non da Vice Premier ma da capo politico del suo movimento, confido che qualsiasi passaggio istituzionale, anche vivace, possa essere presto superato.